Il vero sport favorisce la costruzione di un mondo più fraterno e solidale, contribuendo al superamento di situazioni di ingiustizia e di disagio umano e sociale. Lo ha rimarcato Papa Francesco, ricevendo in aula Paolo VI i circa 7.000 tra dirigenti, atleti, sportivi, simpatizzanti e famiglie della società sportiva Lazio. Invitando tutti a non trascurare mai la dimensione spirituale, il Pontefice ha poi precisato che non solo il calcio, ma tutti gli sport hanno un valore proprio non solo fisico o sociale, ma anche morale, in quanto offrono la possibilità alle persone, specialmente ai ragazzi e ai giovani, di crescere nell'equilibrio, nell'autocontrollo, nel sacrificio e nella lealtà verso gli altri. E quest'ultimo voglio sottolineare, la lealtà, lealtà verso gli altri, dove cresce un po' dappertutto l'abitudine del tradimento. Questo non mi conviene, ma da parte, lealtà, questo lo sport fa crescere tanto.